mamme e papà c'è una novità che vi riguarda sulla app la mia liguria la mia liguria bambino i più bei contenuti di 101 gite in liguria.it gite in liguria a misura di bambino sono da ora disponibili sulla app la mia liguria scaricate subito l'app scegliete la sezione la mia liguria bambino e iniziate a navigare fra le centinaia di proposte e idee come sempre suddivise per zona e per età proprio come sul nostro sito ma con in più la possibilità di raggiungere facilmente le destinazioni godere di contenuti extra e usufruire dei servizi che la app offre da oggi quindi grazie alla app la mia liguria potete portarci sempre con voi nei vostri weekend a misura di bambino a genova e in liguria